Ora Tele X vi presenta la sua seconda trasmissione. La rimetta lì, non parto più. La rimetta lì, non parto più, non parto più, non parto più, non parto più. La rimetta lì, non parto più, non parto più, non parto più. La rimetta lì, non parto più, non parto più, non parto più, non parto più. La rimetta lì, non parto più, non parto più, non parto più, non parto più. La rimetta lì, non parto più. La rimetta lì.